Si ricordano di noi solo quando devono incassare, ma qui siamo praticamente abbandonati. Ad affermarlo in coro sono i residenti delle case parcheggio di Via Torta, nella frazione di Cavate, di Sulmona, dove oggi è divampato un incendio nel terreno posto nelle vicinanze. Il rogo è praticamente passato in secondo piano. Ad addare in fiamme sono stare delle serpaglie in un terreno privato. La natura dell'incendio è sicuramente accidentale. I residenti sono immediatamente intervenuti per spostare la tua vettura che potevano essere coinvolte dal propagarsi delle fiamme. Poi i vigili del fuoco, allertati dagli abitanti del quartiere, hanno spento definitivamente le fiamme. Ma l'attenzione si sposta sulle condizioni di vivibilità nelle case parcheggio. Ogni cosa che c'è bisogno da fare la facciamo noi. Abbiamo l'umidità dentro le case. Viviamo in 4, 5 e 60 metri di casa, tuonano i residenti, denunciando il completo abbandono del quartiere. Spesso scatta anche la pulizia fai-da-tè con il taglio dell'erba e della folta vegetazione. Sembra di stare davvero nel medioevo, eppure dobbiamo pagare l'affitto ogni mese e concludono da via torta, chiedendo solo un po' più di attenzione.